All'interno del dizionario delle parole che ha come luogo la stanza delle parole che è quella in cui ci troviamo e vi trovate in questo momento, la parola città è la parola che abbiamo scelto di comune accordo come rilevando in questo senso l'importanza che nella costruzione del dizionario del contemporaneo deve avere di diritto in quanto lo scenario ormai siamo a partire dall'epoca post-industriale ma oggi e nel futuro si può parlare già di una città pianeta in qualche modo, questa dimensione è onnipervasiva e fa parte di una dimensione anche come dire di nuova ecologia all'interno della quale si rendono necessario tracciare nuovi paradigmi, nuove frontiere, nuovi, un termine un po' abusato ma insomma valido, orizzonti di senso in questo caso, per cui con Giorgio certamente ci interessa esperire nell'arco delle nuove lezioni che come dire dal punto di vista del dispositivo caratterizzano la stanza delle parole per cui nove più una che è appunto una sarà una nostra lezione esatto e andremo a proporre diverse declinazioni e ad individuare diverse prospettive della parola città. Oggi diamo inizio in una maniera che comunemente riteniamo il più autorevole possibile alla prima lezione, con la lezione del professor Franco Purini, il mistero della città che sulla qual cosa insomma non ha bisogno di presentazioni, si tratta di una delle figure più autorevoli all'interno del panorama architettonico e disciplinare e della ricerca in Italia e per cui oggi è per noi un grande onore e darei a questo punto la parola, non so se Giorgio volevi aggiungere qualcosa. La parola città dico solo questa ovvietà che la città è il nuovo habitat dell'homo sapiens, sapete tutti che nel maggio del 2007 due università americane hanno rilevato questo passaggio del rubicone, il 50% degli umani più uno trasferiti a vivere diciamo nello spazio urbano e quindi diciamo è un tema centrale insomma della riflessione anche del terzo millennio e ci piaceva iniziare con Purini che è un grande teorico anche perché diciamo lo avevamo messo in evidenza anche in questo volumettino Atlantide a suo tempo, a un certo punto proprio pensando diciamo partendo dall'89 che è un po' l'anno che stiamo quasi per ricordare con un anniversario, l'89 è l'anno dell'abbattimento del muro ed è anche come dire l'anno che segna la nascita globalizzazione a un certo punto in un testo importante Franco se non ricordo male ha detto da questo anno in poi la città non si può più programmare, non si può più costruire come l'abbiamo intesa fino a un certo punto quindi era interessante per me partire proprio diciamo da questa riflessione ora non so se poi sarà uno dei temi che Purini toccherà nel suo intervento ma comunque magari anche sotto forma di domanda alla fine ne possiamo parlare quindi do la parola e benvenuto a Franco grazie. Io farò una conversazione con voi che sarà più che altro l'illustrazione di una scaletta di temi perché non sarà possibile entrare nel merito delle questioni dico mi occupo ma il senso del mio discorso la tesi che io proporrò è che oggi è praticamente impossibile conoscere la città è possibile ovviamente accumulare un certo insieme di constatazioni di lettura eccetera ma è di fatto impossibile e questo è questo è un mistero secondo me positivo sapere veramente che che cos'è l'ambiente urbano che noi frequentiamo per questo ho chiamato ho dato il titolo a questa conversazione il mistero della città proprio per perché questa è la mia tesi l'unico modo per conoscerla almeno relativamente è fare il mestiere che si fa io sono un architetto per cui posso conoscere la città soltanto facendo un progetto non attraverso analisi non attraverso indagini eccetera interdisciplinari queste mi possono aiutare ma senza altro posso dire che soltanto il progetto per un architetto è lo strumento che consente di intravedere qualche elemento diciamo di trasformazione della città non so cosa 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 succeda per le altre discipline ma credo che sia una condizione abbastanza comune basterebbe diciamo il modo con cui inizio questa conversazione quando diciamo città diciamo indichiamo possiamo indicare città piccole città medie città grandi metropoli megalopoli e soprattutto un fenomeno nuovo che è emerso negli ultimi decenni che le città sono diventati fenomeni geografici città del messico un enorme città 20 milioni 22 milioni di abitanti non si fa più a partire dalla cartografia urbana si fa a partire da dai diciamo dalle mappe dell'inquinamento a una certa altezza quindi le vere tavole di piano sono quelle che suggeriscono ci dicono in che modo questa 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 città è diventata un fenomeno climatico fenomeno geografico quindi si è proprio spostata la progettata della città dal livello del suolo al livello atmosferico per dire quanto è complesso questo questo concetto e metto all'inizio delle mie considerazioni una quattro parole scritte da un grande antropologo che è claudio levi strauss il quale ha scritto ha detto ha scritto la città è la cosa umana per eccellenza quindi se c'è qualcosa che identifica noi esseri umani è proprio la città ormai più che lo diceva giorgio definisse prima ormai abitanti delle città hanno superato il numero degli abitanti che invece vivono in un altro modo a contatto con la natura sono gli agricoltori coloro che abitano fuori gli abitanti della città sono la maggioranza degli esseri umani e questo si sposa con questa diciamo dimensione di fenomeno geografico che ormai quasi sovrasta quella quella fisica che invece interessa me ovviamente come architetto allora come si conosce una città per esempio io abito a roma da quando sono nato presente anche non sono nato a roma ma alla settimana della nascita sono 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 venuto con la mia famiglia a roma sono sono romano da moltissimi decenni molti decenni un po la conosco non posso dire di conoscerla perché roma è una città che nessuno può dire di conoscere ma questo si può dire per altre città londra parigi new york ma anche città più piccole non si possono conoscere città come dicevo ma appunto come si conosce però quel poco che si conosce intanto si conosce il proprio intorno c'è gente che vive al come come io da piccolo vive al quadraro vivevo al quadraro che era una borgata di roma negli anni cinquanta molto distante dal centro storico quasi isolata per così dire e quella è la prima mappa mentale che io ho costruito del che cosa è la città deriva dalla dal fatto di vivere questa dimensione e questa mappa mentale mentale mi è poi servita per comprendere alcuni altri quartieri con i quali sono avuto a contatto quindi si parte dalla conoscenza del proprio intorno anche ridottissimo dove la casa dove la strada dove la piazza quali sono i mezzi che ci arrivano come il paesaggio ecco quello quello diventa l'impronta fondamentale attraverso con i quali noi leggeremo non solo la città nella sua interenza ma tutte le altre città quando vado in una città che non conosco non mi rendo conto ma il modello che non la testa è la città che ho imparato a conoscere che mi accompagnerà per tutta la vita quindi da lì da questa prima mappa mentale si passa alla mappa mentale più articolata che comprende i quartieri che costellano il mio e quindi ampliano questa dimensione conoscitiva sempre a partire però dal modello iniziale finché il modello iniziale finisce per diciamo coinvolgere la città nella sua interessa come 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 roma quindi la mia idea di roma è un'idea che fortemente determinata dal primo approccio che ho avuto con l'ambiente urbano il mio l'ambiente urbano del quadro era caratterizzato dalla presenza maestosa e straordinaria degli acquedotti romani e l'idea della della contiguità fra ruderi romani e abitazioni in quegli anni nelle arcate dell'acquedotto c'erano le baracche degli immigrati ecco quell'immagine è un'immagine generativa di ogni forma urbana e di roma stessa per chi magari si era formato da piccolo in una città come questa vianizza questo quartiere qua l'immagine diversa e sono il bello della città che proprio ciascun abitante o ciascun visitatore elabora un'idea personale e per i nativi di una città questi da persone che si forma appunto nei primi anni di vita diventa fondamentale anche per le città che poi si incontreranno quindi non ci costruiamo una specie di modello che tende all'astrazione e che cerca di comprendere questo veramente per i giovani non vi è forse ancora chiaro ma lo capirete si rappresenta questo 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 modo parziale diciamo incompleto di di conoscenze la città nell'idea di diciamo di forma urbis cioè di configurazione schematica che la città ha che che ci presenta per roma non è difficile capire perché è nata la leggenda dei sette colli per esempio in realtà i colli a roma sono molti di più la mitologia su roma consegna all'immaginario diciamo pubblico condiviso una città di sette colli con il tevere in realtà la città molti più di sette colli in realtà il tevere e il tevere da qualche migliaio di anni ma prima era il paleo tevere c'è una specie di lago immaginate il campidoglio il palatino il celio c'è tutte le i colli sette colli di roma galleggiare su un lago no specie con con canne palustri con questi alti piani di tufo orizzontali coperti di alberi col problema di come arrivarci e di come collegarsi con gli altri colli a un certo punto diciamo ciascun colli viene colonizzato da piccole tribù che a certo punto pensano la federazione romolo è il federatore di queste comunità e che eleggono poi come capitale diciamo come centro nevralgico di quest'unione di varie villaggi il palatino nasce la roma quadrata eccetera eccetera e questa storia ovviamente ciascuno se la rappresenta a suo modo però è interessante ragionare su sulla formazione di questa diciamo idea comprensiva della città perché appunto ci può essere da guida per conoscere alcuni elementi ad esempio a roma l'elemento più importante per quanto riguarda la forma urbis è la soluzione il problema di come salire dalla quota zero per così dire la quota dell'attuale campo marzio fino alla quota sommitale degli addende delle alture e qui c'è tutto un sistema di salite alcune famose l'ascesa al campidoglio all'araceli avete visto queste scarinate impennate oppure piazza di spagna e il tema del salire scendere diventa il tema fondamentale dell'architettura romana che sarà poi esaltato come tutti sappiamo nel nel seicento il secolo del barocco dove come ci insegna krautheimer nasce il concetto di teatro urbano cioè queste scale diventano i principali elementi per per determinare per me diciamo per 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 realizzare così straordinari apparati scenografici che sono appunto i teatri barocchi a roma c'è una via che si chiama via del teatro pace un teatro pace non è mai esistito a roma il teatro pace è la chiesa della pace diciamo rifatta riorganizzata attraverso una magnifica sistemazione da piazza cortona e quella via è la via che porta diritto a questa piazza incantata allora è così quindi si conosce la conoscenza della città una conoscenza parziale e soggettiva soprattutto e l'unione di queste infinite soggettività crea poi appunto quella che io definisco la forma urbis che senz'altro deriva dalla struttura della città poi ci arriviamo ma che è frutto anche di un'elaborazione personale se noi leggiamo un libro fantastico che vi che vi consiglio di legge se siete interessati a roma sia romani sia quelli non sono romani che viaggio in italia di ghete beh diciamo emerge un'interpretazione della città rispetto alla quale ciascuno di noi può prendere distanze eccetera anche un intellettuale e un poeta straordinario come ghete ci dà una sua rappresentazione estremamente personale che è talmente diciamo aderente nello tempo diversa abissalmente diversa da quella che possiamo avere noi che ci dice quanto è difficile appunto avere un'idea che corrisponda in qualche modo al vero quindi il vero è la nostra interpretazione non c'è una verità della città di roma come non c'è una verità della città di new york di madrid eccetera solo l'immaginazione ci può guidare in questa traccia infatti vediamo un attimo come 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 si conoscono le città si conoscono le città attraverso per esempio la letteratura è una delle fonti migliori per conoscere la città faccio solo un nome a non poi posso addentrare baudelaire baudelaire l'inventore a metà dell'ottocento del dell'idea che noi abbiamo sostanzialmente tutti della città come luogo il luogo nella modernità di un effimero diciamo estremo cioè la città è il luogo dell'effimero la modernità e l'effimero la città come si conosce secondo baudelaire camminando camminando chi è che conosce il flanere chi è il flanere quello che cammina che 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 esplora che non sa dove andare ma casualmente però sa come andarci nel senso che esercita il camminare come un'attività artistica sostanzialmente quasi prima che conoscitiva e conoscitiva artista il lato artistico prevale in cui una specie di avventura visiva lui non sa dove andare però lo stesso andare fatto con intenzionalità estetica e conoscitiva profonde parallelamente c'è un altro grande grande figura della cultura di quel periodo che parla sempre del camminare ma è un camminare opposto a quello botteleriano serve bello confrontarli che henry david e torone americano che ha scritto un libro che si chiama proprio camminare ma il camminare del flanere è finalizzato il camminare di torone un camminare esplorativo nei boschi per esempio lui ha scritto un libro altrettanto piccolo magnifio si chiama walden o la vita nei boschi dove appunto si 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 diciamo si celebra questa utopia americana della scoperta della natura no del vivere walden si costruisce una capanna nei boschi eccetera eccetera quindi la letteratura è una è una è una delle fonti poi c'è la filosofia pensiamo a un filosofo come walter benjamin e alle sue esplorazioni di parigi leggetele sì sì se se vi capita un lungo saggio che si intitola passaggio in cui esplora e diciamo filosoficamente queste strade coperte parigine che sono state uno dei luoghi fondamentali della vita parigina nell'ottocento che sono al centro di un grande romanzo francese di selin quindi la filosofia la letteratura la sociologia proprio leggere i libri di un filosofo di un sociologo contemporaneo come gian domenica mendola ci dice molte cose sulla città contemporanea ovviamente dal suo punto di vista quindi anche lì è una conoscenza parziale e per così dire transitoria non c'è nulla di definitivo proprio perché secondo me la città non si può conoscere c'è la la lettura antropologica che anche questa fondamentale per questo citavo quella frase di di colore delle vistrosse poi c'è una una lettura politica pensiamo al libro di max weber sulla città che la specie di manifesto di cos'è la città nella modernità un testo nostro tempo estremamente scandito semplice strutturato ma anche estremamente complesso in cui è difficile non perdersi noi abbiamo un accordo anulare a roma il grande raccordo anulare che lungo 80 chilometri circa insomma più o meno a londra e 250 e jane sinclair nel corso di un periodo abbastanza lungo se l'è fatto tutto a piedi e ha raccontato questa esplorazione orbitante della città in un modo fantastico in cui che si fia psicografia si fia mescolare la psicologia di chi sta guardando con la geografia all'interno però di un percorso biografico di di conoscenza di sé quindi in qualche modo è la trasformazione del flaner di baudelaire che passa attraverso le letture di walter benjamin per guide board e arriva a questo concetto di deriva che appunto un andare anche in questo caso però che non si sa come praticare e non si sa dove andare questo è diverso dal flaner bodeleriano che fa il bodeleriano non sa dove andare ma ci sa andare nel caso della del del della della psicografia non si sa né dove andare né come andarci quindi un'avventura continua dove si somma mitologia interpretazione soggettiva interpretazione oggettiva lettura dei tracciati stradali metafore ci sono delle del dei diagrammi che fa jane sinclair estremamente interessanti dove affiorano diciamo i segreti della città i signifiati simbolici ma anche i signifiati più concretamente fisici quotidiani direi è un libro che secondo me sarebbe bello leggere che voi leggeste per 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 comprendere appunto la complessità della del nostro rapporto della città poi c'è una lettura economica la città un grande fenomeno economico il più grande fenomeno economico e poi c'è una settura una lettura urbanistica pensiamo ad esempio le lewis manford oppure poi c'è una lettura urbana punto urbanismo pensiamo all'italiano bernardo secchi che è stato un grande urbanista un maestro della lettura urbanistica della città poi c'è una lettura morfologica cioè la lettura della forma urbana allora qui occorre citare un grande studioso come kevin lynch senza il quale per esempio non avremmo l'architettura americana urbana degli ultimi 50 60 anni poi abbiamo fondamentale la diciamo la lettura pittorica qui vuole ricordare un artista che è stato maestro non solo in italia ma in europa della lettura delle città attraverso la rappresentazione pittoria che è il canaletto che ci dà una venezia fantastica e non sempre vera e ci ha dato anche una londra altrettanto fantastica ma altrettanto vera con dei quadri spettacolari che ancora oggi ci stupiscono perché perché ci stupiscono per la loro oggettività topografica proprio lui girava con la macchina o con con la scatola ottica quindi diciamo le prospettive che lui schizza su sugli appunti corrispondono esattamente alla esattamente con una grande esattezza a quello che veramente lui vedeva ma poi sono diciamo trasportati una dimensione fantastica che che li rende unici è uno dei tanti pittori che si sono misurati con 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 questa visione complessa pittorica della età basta basta pensare al padre di van vitelli olandese che ci ha dato dei quadri straordinari della roma del settecento se fra 600 e settecento poi abbiamo anche una lettura filmica qui sarebbe sarebbe oggetto di una conversazione voglio fare un solo nome vin venders per esempio ma forse anche kubrick di lolita non so se quanti l'hanno visto questo film ecco nei sfondi urbani diciamo filmati da da kubrick per 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 il film lolita sono fantastici è un film in bianco e nero dove la periferia americana viene diciamo ritratta no con una capacità poetica e anche devo dire documentaria uniche è veramente sembra di star dentro la pellicola no non spettatori di qualcosa che succede sullo schermo ma noi parte di quel paesaggio come osservatori sul bordo della strada che stanno guardando il protagonista di questa avventura e la sua amata poi abbiamo la la diciamo la rappresentazione metaforica che cos'è la città secondo marc antoin loge un grandissimo uno dei profeti della 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 modernità architettonica che paragona la città a una foresta c'è questa similitudine la città una foresta e da dove prende questa questa idea prende quest'idea dal parco di versailles voi sapete versailles la reggia di luigi quattordicesimo e c'è un enorme parco e questo parco è tutto disegnato da da diagonali etual cioè piazze rotonde da cui si dipartivano le strade eccetera eccetera con dei piccoli edifici dentro e questa enorme distesa diciamo che somiglia a un fenomeno naturale in realtà è tutta tutta disegnata disegnata da chi dall'architetto le notte e loge prende questa questo parco e e al posto degli alberi ci mette le case che appunto riempiono il disegno delle grandi superfici verdi del 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 parco ma questo parco a che cosa serviva a passeggiare non tanto a passeggiare il re la mattina con il con la sua squadra montava a cavallo andava a caccia del parco ammazzava i daini uccidevano quindi la macchina diciamo del parco di versailles è una macchina per uccidere la famosa etuale che poi diventerà la place dell'etuale a parigi dopo serviva a fare il modo da aspettare che i cervi spaventati corresse lungo questi sentieri poi entravano in questo e lì venivano massacrati quindi nel nell'idea di loge c'è questa radice violenta nella metafora logeriana non solo ma quando poi leggeremo heidegger quando definisce cos'è lo spazio e lui dice che lo spazio è creare radure quindi entrare in una foresta e abbattere gli alberi creando degli spazi liberi nella voce spazio la parola spazio nell'etimologia latina significa essere aperto essere visibile che lo spazio si collega alla visibilità e perché questo perché la foresta dove abitavano i primi esseri umani era violenta noi eravamo preda degli animali feroci che potevano mangiarci quindi il modo di difendersi è quello di avere di abbattere tutti gli alberi cioè dietro questo pilastro mettiamo che sia un albero potrebbe esserci un leone che ci avrebbe mangiati quindi per essere sicuro di avere uno spazio libero che ci permettesse non so di lanciare un di di scagliare una lancia o una freccia e occorreva fare diciamo piazza pulita qui lo spazio è dilatare la complessità l'invisibilità eliminarla rendere tutto visibile e quest'idea di marcanto alloce ha fatto diciamo un grande cammino è una delle idee fondamentali della città anzi direi che la città moderna viene fuori dal trattato di marcanto alloce da piranesi e da londra del seicento la londra del seicento e londra della del 1666 del griglio gritt file del grande incendio e la città che ha dato vita alla città moderna era l'unica città europea che avessi un milione di abitanti pensato un po la seconda qual era non so quanti lo sanno napoli napoli la seconda città europea per numero di abitanti ma la città più diciamo potente da un punto di vista numerico era proprio londra e i piani che vengono fatti dopo il grande incendio il progetto di christopher vren è un progetto che poi ha generato altri importantissimi disegni urbani ma qui non possiamo dilungarci ho un'altra interpretazione no per raccontarvi quanto è complesso conoscere la città dell'interpretazione psichica che cosa l'interpretazione psichica deriva da un test da un brano di un libro famoso di sigmund freud questo libro è il disagio della civiltà e lui a un certo punto dice scrive quando si guarda il palatino si vedono i rudeli ma attenzione guardate bene guardando bene io vedo che i rudeli sono incorporati nella visione che io ho dell'edificio quando era intero quindi in realtà contemporaneamente vedo la rovina e l'edificio prima che diventasse rovina come era quando era intatto e questo scambio di tempi mi fa capire fa capire a freude e quindi a noi che la città non è soltanto una realtà fisica ma anche e soprattutto una realtà psichica un'entità psichica lui scrive e quindi conosce la città significa anche sapere entrare in questa dimensione psichica della città lui parla di roma ma penso che questo discorso si può fa applicare a qualsiasi altra città e perché non si può a conclusione di questo passo che vi ho illustrato con questi diciamo discipline che si occupano della città che cosa troviamo troviamo una serie di contraddizioni che sono straordinariamente importanti per l'immaginario urbano ad esempio la città è finita e infinita la roba a un certo punto finisce ma la nostra immagine è infinita dove è che finisce non c'è un muro più si perde nella campagna quindi è un'entità finita infinita è semplice complessa perché noi potremmo dire una città raggruppata attorno al suo fiume no potremmo anche dire che iterativa perché fatta di case sostanzialmente oggi è fatta per il 95 per cento della periferia dalle dalle varie periferie romane e diciamo iteranti ci sono migliaia 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 di casa quante sono le palazzine a roma ecco è impossibile contarle e poi ci sono i monumenti quindi abbiamo una materia residenziale iterativa che si ripete si accumula e abbiamo poi monumenti è grande e piccola nello stesso tempo roma è sterminata ci sembra ma in realtà c'è tre milioni e mezzo di abitanti non è paragonabile a shanghai che ce n'ha 22 23 eppure l'immagine non abbiamo di roma una città che non che che appunto è una grande città è come dire una metropoli ristretta ma senz'altro una grande metropoli lo diventa esattamente nel 1960 quando ospita le olimpiadi è il momento in cui la città di roma da città grande diventa una metropoli abbastanza piccola ma una metropoli è naturale artificiale villa panfili villa ada villa borghese queste grandi ville non sono pezzi di natura sono natura domesticata disegnata tutta progettata quindi è una natura che sembra ci sia sempre stata in realtà è frutto di una diciamo sapiente progettazione di questi spazi verdi ma allo stesso tempo nella città ci sono anche ambiti natura vera se voi guardate il lungo teveri quando finiscono i muraglioni al flaminio fulco pradesi ha scritto delle cose molto belle su questa questi aspetti la nostra città c'è un habitat selvatico lungo lì del tevere che lui giustamente dice che bisogna proteggere lì dove il ponte della musica sotto c'è proprio un habitat selvaggio dove ci sono animali cose eccetera dove c'è una vita acquatica forte dove diciamo il disegno del verde non c'è più c'è proprio un verde spontaneo rigoglioso eccetera quindi dobbiamo come dire comprendere che la città appunto si 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 dibatte per così di vive di queste contraddizioni naturale artificiale ma anche duratura effimera quante volte è cambiata roma quando è morto cesare immaginatevi come era roma roma aveva un qualche tempio di di tufo si vedono ancora alcuni esemplari a piazza argentina se guardate sotto vedete questi questi tempi di tufo piccoli molte case dove abitava il popolino diciamo il popolo minuto eccetera che erano case alte 8 9 piani immaginate basamento in mattoni probabilmente poi questa incastellatura di legno con con diciamo le travi che collegavano che sono le case che troviamo in germania quando passiamo il confine dalla svizzera alla germania o dall'altra alla germania vediamo queste case che sono le case che i romani hanno insegnato a fare ai germani che invece vivevano nei boschi e roma era fatta tutta di case di legno infatti andavano a fuoco molto facilmente il grande incendio neroniano non l'ha piccato lui perché per cucinare le famiglie facevano usavano il pavimento di legno come focolare cucinavano sul pavimento non c'erano tramezzature murarie ma le stanze venivano individuate da tende un po come nelle case giapponesi c'erano delle tende che separavano ovviamente c'erano dei momenti in cui bisognava stare dormire per esempio allora c'erano queste tende marziale giovenale parlano di questa città così costipata affollata eccetera eccetera quindi è chiaro che 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 diciamo bisogna mettere assieme sempre questi testi poi roma roma è cambiata con chi con augusto augusto scrive nel res geste a piazza augusto imperatore ho trovato una città di mattoni e lascia una città di pietra sono cominciate le grandi le grandi architetture in marmo in mattoni e marmo ma il primo in realtà non è stato augusto è stato pompeo il nemico di cesare pompeo si mise a piange quando gli portarono la testa di pompeo erano nemici ma erano legati da un rapporto straordinariamente intenso e pompeo realizza la prima grande architettura urbana di roma della roma diciamo alla fine della repubblica che era un insieme di di cortili ed edifici per uffici potremmo dire un centro direzionale che si concludeva con un grande teatro in pietra ma siccome c'era una legge che vietava che ci fossero teatri stabili i teatri non essere in legno anch'essi fece costruire in cima al suo teatro in marmo un tempio quindi legalmente cioè io ho costruito un tempio appoggiato su un basamento quindi non è un non è un teatro è il basamento del tempo ancora oggi se voi andate dietro santa maria come si chiama si insomma vedete ancora diciamo il disegno di questa cavea e paradossalmente il nemico di pompeo cesare fu ucciso proprio in un ambiente di questo sistema diciamo architettonico fatto da pompeo praticamente è stato ucciso nell'atrio corrispondente cinque metri sotto del teatro argentina lì che è morto cesare lì lì dove si è appunto verificato un evento che ha cambiato la storia del mondo perché da lì viene fuori l'impero e quindi diciamo roma è cambiata un sacco di volte nel medioevo roma aveva 30.000 30.000 abitanti arriva da avere poi a risalita un po è arrivata al tempo dei papi a 100.000 quindi era un grande paese rinserrato nel lanza di campo marcio con questi enormi edifici abbandonati che erano diventati cave di materiale il colosseo venne giù metà metà venne giù e metà rimasti in piedi quella che vediamo perché per metà era costruito su un basamento di tufo e sull'alto invece il limo del della una terra diciamo meno compatta che era il pale alveo del tevedico io ho detto ci fu un terremoto nel 400 dopo cristo più o meno una data attorno a quella quel tempo lì in che abbatté metà colosseo e per secoli è diventato una cava di marmo che è servita per esempio per costruire palazzo farnese palazzo della cancelleria sono tutti fatti con i marmi del colosseo una cosa straordinaria questo riciclarsi e c'è un grande poeta francese joaquin du bellet che ha scritto una serie di sonetti l'esantiquité de rom in cui dice in un sonetto seno 823 leggetelo se vi capi lo trovate su internet che roma continua a vivere mangiando se stessa divorandosi cioè mangia se stessa si ricostruisce in altre forme ecco quindi di roma ne abbiamo tante e di roma bisogna dire per esempio ma anche diciamo che è una delle pochissime città al mondo che è madre di altre città tantissime città non so quante sono figlie di roma dirette da londra new york roma stessa è figlia anche della 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 città greca però roma elaborato poi un suo diciamo codice urbano che era quello della centuriazione per cui londra lo sapete è stata una città romana parigi è stata una città romana tutta la francia romana moltissime città inglesi sono di origine romana tutte le città inglese che finiscono in chester che si via castello sono romane in america diciamo del nord in america del sud moltissime città sono figlie proprio diretta di di roma e noi dovremmo per esempio ripensare a questo quindi roma città eterna ha un suo significato profondo anche perché roma è stato modello per tutte le altre città siamo a pochissime altre città antiche tipo gerusalemme o atene non sono tante le città che hanno generato le altre città roma è probabilmente la più è la madre più prolifica di altre città e diciamo sarebbe bello che questa amministrazione per esempio capisse che non si può essere a capo di una città fare il sindaco di una città se non si ha un disegno un'idea di questa città e purtroppo questa amministrazione attuale non ha un'idea di questa città altri sindaci precedenti avevano un'idea magari sbagliata ma senza un'idea una città non si riesce a governare o velocemente una contraddizione importante che attraversa tutto il novecento proviene anche da più lontano ma attraversa tutto il novecento è questa chi di noi non desidera una città bella accogliente ordinata efficiente tutti no credo lo leggiamo sui giornali a cui non funziona le strade con le buche però qual è la città che desideriamo in realtà dentro di noi una città pericolosa in rovina dove noi rischiamo la vita ogni giorno questa è la città che poi vince non vince la città ordinata se guardiamo il cinema o leggiamo i libri prodotti nel novecento e vediamo i film che vengono fuori sulla città che cosa ci presentano una città infernale la città infernale la città infernale la città del novecento paradigma diciamo centrale di questa di questo ragionamento è los angeles che si via los angeles i angeli da dove viene questo nome il nome intero diciamo di di los angeles non so se me lo ricordo bene tutto ma insomma più o meno è così puerto de noesta signora santa maria de los angeles i porciuncola cioè sarebbe la città che ha il nome della chiesa che sta sotto la basile di assisi nella pianura che si vede da si si vedono le due chiese e la chiesa dove è sepolto dove è morto san francesco e qui hanno edificato questa chiesa dedicata a santa madre gli angeli eccetera quindi los angeles a questa a questa diciamo nominazione sacra perché è stata fondata poi da una missione missione di francescani come tutta la california però è una città dell'orrore se pensate ai romanzi di james enroy se pensate a tutti i film in in cui i film di david lynch in cui holland drive eccetera è la città proprio infernale per eccellenza eppure è una città che il nome un nome sacro e questa ambiguità cioè la città è il luogo che vorremmo ordinato bello funzionante sicuro e invece poi siamo affascinati dal contrario e per esempio questa contraddizione non è stata colta nella cultura urbanistica del novecento che ha voluto fare la città la prima città quella ordinata sicura bella efficiente e si è dimenticata il fatto che le città sono luoghi del bene del male quindi io non so come sarebbe possibile ma l'architettura l'urbanista devono tenere conto che il male è essenziale in qualche modo pensate a un romanziere il romanziere che ha capito meglio secondo me questa duplicità della condizione urbana è james ballard e c'è un romanzo per esempio che è un po una grande diciamo lezione su questo questo aspetto che vi prego voi giovani di approfondire che è cocaina night in cui si 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 afferma la tesi che più la città è cattiva malata pericolosa più provoca una reazione e quindi questi fenomeni vengono in qualche modo neutralizzati se questo meccanismo non si attiva la città non fa che degenerare quindi il male diventa sempre più pervasivo sempre più efficace nel suo disegno diciamo di distruzione quindi bisognerebbe imparare noi architetti che quando ci occupiamo di architettura di città dobbiamo tenere presente anche questa condizione innegabile che non dico deve accettare il male ma deve saperlo vedere non soltanto come disfunzione quindi non soltanto come buchi nell'asfalto ma proprio come una costituzione nativa della città per cui la città è per sua natura fatta di bene e di male poi una domanda che vi pongo sulla quale non argomento nulla la pongo a voi giovani soprattutto che ormai anche se io la mi pongo questa domanda non avrò tempo ancora sufficiente per 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 decidere le città dico secondo voi hanno una finalità c'è un progetto di esistenza delle città o le città vanno avanti per 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 caso per elementi casuali io personalmente ritengo sono per la prima opinione le città secondo me hanno un progetto di esistenza roma credo che ce l'abbia avuto che ce l'abbia ancora come ce l'ha milano come new york come londra ma tutta la diciamo la letteratura sulla città contemporanea mi dice il contrario e anche diciamo le scienze evolutive che si occupano di fenomeni evolutivi dimostrano che il caso che governa che non c'è una finalità questa è una domanda alla quale che vi dovete porre per cambia cambia completamente il nostro atteggiamento sulla sul 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 destino degli insediamenti urbani pensare ad esempio che roma abbia una finalità nel mondo ci obbliga a pensare progetti in cui questa finalità viene dichiarata pensare invece che sia tutto caotico ci porta ci porterebbe ci porta a vivere giorno per giorno la città facendo degli aggiustamenti continui senza che abbiano un disegno complessivo io personalmente credo che una finalità la la città la debbia la debba avere l'abbiamo visto per esempio per quanto riguarda la dimensione diciamo del del dell'europa dell'unione europea con la tragedia la chiamarlo così greca quando la germania in modo molto spietato non ha riconosciuto ad atene e alla cultura greca atene dico come rappresentazione massima della cultura greca una finalità universale che dura da cinquemila anni era trattata in modo molto volgare e crudele come semplicemente una realtà economica che causava pensate causava all'europa la perdita di un pilla nano a quello del lussemburgo lussemburgo se ci siete stati è uno staterello di 40 50 chilometri 100 chilometri quadrati non esiste hanno lette distrutto un'economia sottoponendo il popolo greco a a dieci anni ormai di 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 con con un sacco di persone che sono morte perché hanno smesso di curarsi non c'erano soldi per comprare una cosa spaventosa invece bisogna rendersi conto che secondo me che le città hanno una finalità le culture ce l'hanno la cultura italiana ha una sua finalità secondo me roma una sua finalità napoli ce n'ha uno eccetera eccetera e quindi non è vero secondo me che le città post sono soltanto evolvono per casualità che è una trasposizione tra l'altro questo è importante della concessione di darwin dell'evoluzione che viene applicata alle città io non so se sia legittimo trasportare la teoria di darwin sull'evoluzione della città penso che sia sbagliato o quali sono gli elementi sui quali noi possiamo minimamente accumulare qualche conoscenza non li tratto li enumero il tracciato urbano il tessuto le emergenze i frammenti di natura artificiale o originaria i terreni vaghe che sono fondamentali la città è piena di spazi che sono rimasti lì abbandonati o incerti non definiti e anche qui bisogna avere un'opinione i resti del passato a roma l'archeologia è uno dei motori fondamentali che che crea che hanno creato e continua a tenere in piedi la sua immagine l'orografia l'orografia fondamentale va magicamente interpretata appunto c'èo i sette colli che non sono sette allora perché sono sette che che rapporto c'è perché c'è il campidoglio perché i romani quando vedono la montagna erano affascinati e davano un significato forte simbolico a questa altura questa montagna si aveva una geometria a via di burtina se ci fate caso va dritta sul monte gennaro il monte gennaro se lo guardate una montagna assolutamente simmetrica è alta 1231 metri una cosa del genere e ha una forma perfetta gubbio andate a gubbio gubbio è costruita sotto nell'asse di tre alture che è come un'aquila che sta aprendo le ali il circeo visto da sperlonga è una montagna simmetrica con due punte quasi uguali non sono uguali sono quasi uguali se si vede da da sabaudia emerge invece lo sperone terminale a nord e qui è un'immagine del tutto diversa da quella vera che sia distanza e di romani avevano questa idea diciamo vitale della geografia cioè la geografia era una figurazione che aveva un significato mitologico e poi ci sono le infrastrutture che queste sono le cose sulle cose possiamo accumulare un certo numero di nozioni che scannano la loro oggettività però non è facile mettere assieme queste voci non ci riusciamo mai gli urbanisti non ci sono usciti e neanche noi architetti ci riusciamo possiamo soltanto interpretarle soggettivamente ma non c'è una certezza di aver fatto una cosa giusta poi dovremmo distinguere la città occidentale dalla città orientale non lo facciamo ma occorre occorrerebbe saperlo fare con la globalizzazione il mondo orientale è entrato diciamo fortemente all'interno della concezione occidentale della città con tutta una serie di conseguenze che si stanno a mano delineando loro hanno preso gli orientali alcuni elementi della città occidentale ad esempio la copia della punta di manatta na pudonga shanghai chi l'ha visitata si accorge che poi una specie di rifacimento e la città diciamo occidentale sta prendendo alcuni elementi della naturalizzazione cara alle culture orientali poi che altro c'è ecco anche un altro rapporto sul quale non posso entrare perché si farebbe troppo tardi utopia realtà non c'è realtà senza utopia non c'è utopia senza realtà il grande maestro dell'architettura del novecento uno dei grandi maestri ernesto rogers parlava non a caso di utopia della realtà quindi i giovani se non se non pensa in una dimensione utopica non non arrivano a capire la realtà questa prima ancora di cambiarla non si comprende la realtà se non attraverso il lievito dell'utopia però l'utopia quando è realizzata a volte crea il suo contrario che è la distopia qui la distopia non è qualcosa che si affianca all'utopia e la conseguenza dell'utopia abbiamo un esempio esempi fantastici a roma ne cito uno solo il corviale di mario fiorentino che era un architettura utopica costruita 30 anni dopo il suo tempo fuori tempo massimo che deve essere una specie di avamposto operaio popolare una comunità operaio popolare contro la disgregazione della piccola borghesia non a caso è un muro davanti a una marea di palazzine come dice questa la diciamo la roccaforte sociale rispetto alla disgregazione in ceti sempre più differenziata eccetera della piccola e media borghesia l'operazione sapete com'è andata proprio perché è stata realizzata troppo tardi quindi quella distopia nasce da utopia come 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 sempre l'ultimo aspetto che ci impedisce di conoscere bene la città è la scelta contemporanea da parte di tutte le culture dagli stati uniti alla cina di abbandonare l'idea dei luoghi e mettere in primo piano una concezione atopica della città cioè la città non ha più luogo non può averlo tutto è fuori luogo quindi io quando costruisco un quartiere direzionale oppure un quartiere abitativo non mi devo più preoccupare di dove sta nel rapporto con il suolo del rapporto con il paesaggio no faccio quella cosa e la metto lì è un po come produrre non so milioni di bottiglie di acqua minerale e poi appoggiarle su altrettanto tavoli senza cercare relazioni eccetera e questa è una scelta e in mezzo a questo questa dialettica luoghi non luoghi luoghi non luoghi e l'assenza di luoghi ci sono i non luoghi di marco c'è che ha escogitato una specie di se ci pensate bene una specie di compromesso lui c'è per esempio i centri commerciali e gli aeroporti sono non luoghi in realtà attirando milioni di persone lo diventano quindi quello che lui dice negativamente dei non luoghi in realtà nella sua idea positivo ha trasformato i luoghi in non luoghi in realtà è molto diverso l'aeroporto di fiumicino l'aeroporto so ken di new york dal da da un luogo e noi abbiamo bisogno di luoghi così come abbiamo bisogno anche di 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 luoghi che non sono luoghi e di non luoghi alla marco c'è bisogna essere chiari su questo coso anzi le giovani generazioni sono sicuro che faranno una distinzione quando si fa si fa si pensa al futuro di una città questa diciamo scalarità quasi musicale di ambienti urbani deve essere presente pensiamo a new york come si fa a a non individuare in times square un luogo straordinario della città non è un incrocio di strada è proprio uno dei luoghi rappresentativi più più importanti così come il riverbero della lacuna lasciata nella maglia del 1815 del central park che dove essere come sapete tutto edificata quell'area poi in realtà scelsero di non costruire di lasciarla a parco e chiamarono un grande paesaggista come frederick love olmsted per disegnare il central park che un anche lì una natura diciamo precedente ma corretta vediamo al central park ancora i grandi massi di granito con le striatura dei ghiacciai e vediamo masse di granito che olmsted ha portato lì per creare un'accidentalità diciamo topologica cioè delle collinette artificiali per poter disegnare meglio questo ambiente pittoresco eccetera quindi bisognerebbe avere le idee un po più chiare su questo rapporto luoghi contro i luoghi e non luoghi che invece sono una mediazione che secondo me marco c'è non ha poi approfondito quindi a conclusione di questa conversazione l'urbanistica come sappiamo in crisi quasi definitiva e la nozione di architettura questo per i giovani studenti non so a genova come sono le cose per i ragazzi di genova che sono qui l'architettura è stata sostituita da due nozioni diciamo parallele che sono il paesaggismo e il design vale a dire il paesaggismo inteso nelle nostre facoltà di architettura degli nostri studi non è altro che la problematica urbanistico architettonica precedente tradotta nei termini vaghi ambigui e spesso diciamo non dotati di validità disciplinare vera che hanno in qualche modo espropriato l'architettura impadronendosi io penso che per esempio che chiamare un corso architettura del paesaggio o il concetto di architettura del paesaggio non abbia consistenza non esiste l'architettura del paesaggio non esiste perché io a livello paesaggistico non posso cambiare nulla il paesaggio l'ha fatto la cultura agricola l'hanno fatto le infrastrutture i traffici da una città all'altra i percorsi eccetera non c'entrò nulla con l'architettura sono esigenze primarie lo diventano a posteriori attraverso la descrizione letteraria o pittorica quindi il paesaggio ha una grande vitalità estetica che è un prodotto però di altre esigenze al massimo un paesaggista fa un parco al massimo disegna una una casa in un modo significativo rispetto a una roccia o una montagna un fiume ma architettura del paesaggio significa un impadronirsi diciamo di una dimensione che invece ancora tipicamente architettonica forse deriva da una frase di da una definizione di architettura di william morris che verso 1880 scrive architettura e qualsiasi trasformazione della superficie terrestre a meno del puro deserto tanto fa un errore il puro deserto non esiste il deserto è pieno di percorsi di tracce quindi anche il deserto è in qualche modo disegnato ma secondo me questa estensione dell'architettura al paesaggio è qualcosa che intrinsecamente non funziona palladio è stato un grandissimo progettista di ville meravigliose che sono stato modello per l'architettura del sud america e nord america dell'inghilterra eccetera e poi non disegnava paesaggi disegnava architetture nel paesaggio che è un'altra cosa un conto è fare architetture nel paesaggio un conto è pensare che esiste un architettura del paesaggio e poi il design anche che dall'idea dell'industrial design che è una diciamo una cosa vera reale la parola design è diventata la traduzione della parola architettura in una sfera dove c'è una sorta di privilegio di scelta per un'attività performativa che è molto a che fare con l'arte si appropria dei dispositivi dell'arte figurativa e che perde invece la solidità dei recinti che le discipline devono avere cioè l'architettura può fare alcune cose ma altre non le può fare ma basta una cosa quando cammino con cui concludo quando cammino per strada un edificio mi viene incontro lui io non lo cerco se invece voglio sentire una musica mi compro un disco o vado al concerto voglio vedere un quadro vado al museo quando cammino per strada l'architettura mi in qualche modo mi aggredisce e questo non lo può fare quindi l'architettura ad esempio come non può aggredirmi non può neanche parlare di alcuni aspetti della vita umana che sono per esempio il disagio il dolore mentale la sofferenza fisica non può non può io non posso vivere una casa che mi ricorda tu morirai e no mi deve quella casa mi deve dire tu vivrai felice tantissimo la morte da un'altra parte pensate un voglio fare un esempio con cui chiudo veramente quando si visita il mausole delle fosse ardiatine a roma che celebra i 335 morti della 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 rappresaglia nazista non si prova un senso di terrore anzi si ringraziano questi questi nostri predecessori che hanno dato la vita e hanno ci hanno portato verso la libertà quella grande lastra che ci fa entrare la luce e come e come sollevata dal suolo meravigliosamente sospesa nella luce con una promessa di 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 un avvenire più libero se entriamo invece dentro il museo ebraico di libyskind no mi sembra un tunnel degli orrori lì si vuole libyskind ha voluto impaurire terrorizzare i visitatori l'architettura non lo può fare non lo deve fare noi abbiamo un campo diciamo espressivo contenutistico molto più limitato ovviamente tutto ciò poi finisce nella città e noi architetti che non possiamo conoscere la città perché è troppo complessa possiamo solo trasformarla attraverso i nostri progetti ovviamente i nostri progetti devono avere quella carica utopica di cui parlavo spero di essere stato compreso e grazie